Bene Massimo Cacciari, perché appunto Giorgio Meloni lo ripete che l'Italia va a gonfie vele, però uno si chiede anche perché in ogni suo intervento in qualche modo viene indicato un nemico da abbattere. Farei appello a un minimo di onestà intellettuale da parte di tutti, almeno di tutti quelli che non hanno da vivere dietro l'uno o dietro l'altro. Il Paese sui fondamentali va male come prima, prima si citava sanità, scuola, bisogna ricordare i dati sulla sanità, la sanità pubblica è in una crisi spaventosa, quindi servizi essenziali che dovrebbero essere servizi universali stanno andando a puttane, scuola, sanità ed altro. Gli interventi infrastrutturali, gli investimenti derivanti dal PNRR latitano, tutti sanno in che stati ci troviamo, abbiamo preso dei debiti, ci siamo accollati ulteriori debiti e in gran parte non sappiamo ancora bene su quali progetti investirli. Questi sono i dati elementari, per non parlare delle riforme, riforma della giustizia, sono elementi essenziali per la ripresa di un Paese ed erano anche nel programma della Meloni. Tutto ciò è a carte 48, dopodiché i dati che prima si citavano sono veri, l'Italia va meno o peggio di altri Paesi e va riconosciuto per vari motivi, in parte quelli ricordati dal Travaglio, non solo. Ci sono certamente, non c'è certo una ripresa dei salari, i salari italiani, i salari, gli stipendi, i redditi fissi italiani, rimangono tra i più bassi, se non i più bassi, eccetto la Grecia. Anche questi sono dati obiettivi, ma non è certo colpa della Meloni. Voglio dire, gli elementi di crisi che prima ricordavo non sono prodotti della Meloni, sono prodotti di un mal governo che dura in Italia da 30 anni a questa parte, da parte di tutti, come continuo a ripetere. Ci vuole onestà intellettuale, i dati che prima si ricordavano sull'economia dicono che l'Italia è andata meno o peggio nell'ultimo periodo di altri Paesi europei, Germania in primis, e tutti i fondamentali su cui da anni ci ostiniamo a discutere, a dire che da lì che occorre ripartire, sono fermi immobili, coperti da questi exploit ideologici tipo il premierato, coperti da fuffa. Ma questa è la realtà e bisogna riconoscerla con onestà da una parte e dall'altra.